L'influenza è una malattia infettiva estremamente comune in età pediatrica. I bambini, in particolare quelli più piccoli, al di sotto dei 5 anni, sono da sempre quelli più contagiati dall'influenza e da altri virus respiratori. E questo perché non hanno una memoria del contatto con questi virus e perché frequentano le comunità scolastiche. Questo sapete che favorisce la circolazione dei virus. Quest'anno l'epidemia influenzale è arrivata in anticipo rispetto agli anni precedenti e si è associata alla circolazione contemporanea di altri virus. E questo ha creato non pochi problemi alle strutture sanitarie e nelle ultime settimane abbiamo avuto infatti un'impellata degli accessi in pronto soccorso pediatrico e dei ricoveri in pediatria. Come si cura e come si previene l'influenza nel bambino? Il trattamento dell'influenza sostanzialmente è un trattamento sintomatico con antipiretici, con una buona idratazione, con il riposo. L'antibiotico non serve per curare l'influenza ma per trattare eventuali sovrainfezioni batteriche e quindi in questi pochi casi va somministrato solo su indicazione del pediatra curante. Come prevenire l'influenza? La vaccinazione antinfluenzale è un'arma efficace e sicura per proteggere dall'influenza, per contrastare l'insorgenza delle complicanze e per evitare la circolazione del virus nell'ambiente familiare e nella collettività. Vaccinazione che è fortemente raccomandata nei bambini al di sopra dei sei mesi di vita con patologie croniche, che sono quei bambini a maggior rischio di complicanze se contraggono l'influenza. Mi preme molto a sottolineare come l'importanza della vaccinazione antinfluenzale anche nei bambini sani e in particolare in chi vive con soggetti fragili che sono a rischio di complicanze se contraggono l'influenza. Oltre alla vaccinazione ricordo alcune semplici regole di prevenzione che consistono nell'evitare di frequentare luoghi chiusi e affollati, questo vale soprattutto per i bambini molto piccoli, nel lavare frequentemente le mani, evitare il contatto con persone malate, ventilare gli ambienti domestici e di lavoro e infine di attendere la completa guarigione del bambino prima di reinserirlo in casa.